Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo qui con questo bellissimo sfondo, quanto mi piace, ma non siamo qui per parlare dello sfondo, siamo qui per F1 Manager, ragazzi, il nuovo gioco manageriale della Formula 1 e oggi andremo ad avviare la nuovissima carina che porterò tutta su YouTube, ragazzi. Quindi se volete gli altri episodi lasciate like al video e arriviamo a 10 like per il prossimo episodio, ma oggi andremo a creare la nuova carina, quindi andremo a scegliere il team e andremo a creare qualche componente nuovo per la macchina, quindi senza perdere l'altro tempo andiamo al video. Ok ragazzi, allora, ecco a tutti i team, Alfa Tauri, Williams, Alfa Romeo, As, Alfa Romeo, non lo so, sono indeciso, sono un po' indeciso. Alpine Va dai, proviamo con Alfa Tauri, ragazzi, io sono della Ferrari, però dai, ci proviamo con l'Alfa Tauri, Gasly e Tsunoda, con Lawson, come collaudatore, ma secondo me è qualche possibilità, ce l'abbiamo di vincere qualcosina. Ok dai, alfa Tauri, sta caricando, perché così non lo, ecco la schermata della M, perfetto, bello, 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 bello. Ecco, il nostro quartiere generale, perfetto, 11 giorni alla nuova gara, calendario. allora questa quella gli obiettivi stagionale sesto o migliore ok allora ragazzi queste sono le macchine volevo vedere se scusatemi un attimo perfetto volevo vedere se ecco creare un nuovo componente progetto si telaio un po' indeciso ragazzi sul primo da creare sottoscocca sottoscocca dai proviamo sottoscocca ragazzi destiniamo un'ora e dieci ore di galleria del vento scusatemi allora c'è meno riduzione della resistenza miglioramento in tutte le velocità si ok va bene 3 set equilibrato ok no vado un po' a peggiorare così anzi no 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 vado a migliorare il flusso d'aria non lo so non lo so ragazzi non lo so però va va bene così perché vado un po' no anzi ora vado a peggiorare un po' le prestazioni però no così così va bene per me può stare così direi che va bene però le ultime cose le ultime cose così va bene va bene ingegneri sono dieci tre tre ok penso tre tanto ne abbiamo dieci quindi ce la facciamo approccio normale conferma 1.116.000 mamma mia creato ok creato creato ragazzi creato perfetto diamo anche un altro la lettura anteriore un'altra cosa che volevo creare fin da subito sicuramente stessa cosa dell'altro componente della sottoscocca mettiamo gli stessi dati della galleria del vento dire sì anche qua però ci rimangono poi poche ore anche se ne possiamo mettere di più però e svilupparlo anche di più il pezzo ok va bene così dai ragazzi va bene così va bene così ok ingegneri facciamo tre ingegneri si dai tre o quattro ma facciamo quattro tanto tre lì quattro quattro ingegneri approccio normale altri 805.000 dollari dovessero stelline vabbè che se ne vanno va bene ragazzi va bene ok ragazzi allora abbiamo creato il sottoscocca nuovo il nuovo alettone anteriore che verranno creati più in Laura sono in fase di produzione quindi li vedremo dal tipo boh quarto quinto gran premio visto ci vogliono tipo 50 giorni per crearlo per il resto ragazzi il tutto si metterà nel prossimo episodio dove andremo con le prime prove libere e le qualifiche ragazzi quindi appuntamento al prossimo episodio mi raccomando non mancate per non mancare mettete like al video iscrivetevi e attivate la campanellina così avete la notizia siete i primi ad avere la notizia del nuovo episodio perché questo è un gioco veramente molto bello e se non l'avete visto dal prossimo episodio scoprirete il grande motore che c'è dietro questo grande gioco ma per il resto ne parliamo come ho detto nel prossimo episodio quindi alla prossima ciao ciao